La capa dei nini è concepita come un viaggio in Sicilia, per ogni voce è piuttosto particolare, per ogni voce, bollicine, bianche, eccetera, si parte dalla sicilia, è tipo la solucaria, ma pure è quella più vicina. La donna lucrata può si fa tutto il viaggio per la Sicilia in senso di orario. Sto facendo il video, sto facendo il video. I ristoranti sono diversi tutti i giorni, quindi poi domani sarà diversa. Conosci Orris come cantina? Conosci Orris come cantina? Ehm, no. Ehm, il termine che non c'è la scuola di Sicilia è la 17 romano, come è loro questo? Quindi ho un po' di... Ehm...